Adulti e bambini questa mattina tutti a scuola in bicicletta. Torna anche a Napoli la seconda edizione dell'iniziativa Bike to School, organizzata in diverse città italiane per diffondere tra i più piccoli la cultura della mobilità sostenibile. Diversi i punti di partenza dai quali genitori, studenti e professori si sono dati appuntamento di buon mattino per raggiungere le scuole poste lungo il percorso, un'occasione voluta dai genitori che accompagnano i propri figli a scuola pedalando insieme in bicicletta per consentire ai bambini di riappropriarsi in sicurezza di uno spazio comune e per sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale. Bellissimo andare in bicicletta a scuola, accompagnare i propri figli e salutare, fa bene a tutti, fa bene alla città, fa bene a noi ed è comunque una bellissima iniziativa per riconquistarsi la propria città nella speranza e nell'impegno che le nostre strade possano essere sempre più praticate da biciclette e da pedoni. Organizzata da Cicloverdi FIAB Cleanup Spacca Napoli Bike, l'iniziativa gode del patrocinio del comune ed ha visto la partecipazione di diverse scuole di ogni ordine e grado di Napoli e provincia. Andare a scuola la mattina è una di quelle cose che tutti noi imprimiamo nella memoria come un momento fondamentale ed è bello andarci in bicicletta, Bike to School, gli organizzatori di Bike to School hanno trasformato anche questo momento in un momento bello, per i bambini e anche per i loro genitori, l'aria pulita che prendi la mattina quando vai in bicicletta a scuola non la ritrovi per tutta la giornata.